Book 2 64 Negazione 1 Non capisco questa parola. Non capisco la frase. Non capisco il significato. L'insegnante Capisce l'insegnante? Sì, lo capisco bene. L'insegnante Capisce l'insegnante? Sì, la capisco bene. La gente Capisce la gente? Capisce la gente? No, non la capisco molto bene. No, non la capisco molto bene. L'amica La ragazza L'amica La ragazza Ha un'amica? Ha una ragazza? Sì, ce l'ho Sì, ce l'ho La figlia La figlia Ha una figlia? Ha una figlia? No, non ne ho No, non ne ho La figlia La figlia La figlia La figlia